ciao amici oggi non parliamo di pane ma bensì di kefir eccolo qua questo è il mio i miei granuli di kefir che sono stati 24 ore a temperatura ambiente dentro il mio armadio vedete il latte si è addensato poi vi faccio vedere il ciclo nuovo io adesso voglio fare una crema una crema di kefir quindi vado a scolare con il mio passino rigorosamente di plastica non va usato come sapete il metallo ed anche il cucchiaio di plastica che non lo butto naturalmente lo lavo con l'acqua calda e lo riutilizzo e così anche il barattolino giro bene giro bene devo far scolare tutto il kefir mi aiuto con il cucchiaio oppure altrimenti lo lascio sopra come vedete ho diversi barattolini sono le prime armi quindi devo ancora attrezzarmi per benino la quantità è minima come vedete perché l'ho già regalata a due amiche ho regalato i granuli e quindi non sono molti però bastano per farvi vedere come funziona ora appoggio i granuli su un piattino vi faccio vedere quello che è rimasto eccoli qua li appoggio così si asciugano meglio e questo se volete berlo così per intero quindi contiene tutti tutti gli elementi tutte le vitamine tutte le sostanze i fermenti è un probiotico e quindi fa benissimo al nostro intestino e alla nostra salute buonissimo l'ho bevuto tutto buonissimo era un po pochino ma naturalmente questi granuli poi aumenteranno piano piano e quindi otterrò una produzione più sostanziosa bene ora devo scolare scolare il kefir per farlo addensare per far uscire il siero che adesso vi faccio vedere quindi metto questo telo questo telo lo uso soltanto per questa cosa vedete lascio lo spazio sotto in modo che non tocchi ci metto questo telo ci metto questo telo questo telo lo lavo soltanto con acqua calda e con un po' di bicarbonato ok ci verso il kefir così in questo modo si asciuga ed ora vi faccio vedere quello che esce adesso uscirà piano piano naturalmente goccia a goccia vi faccio vedere in seguito se voi volete fare uno yogurt leggermente più denso lo tenete pochissimo così lo fate scolare un po' e poi bevete lo yogurt come vedete io sto usando adesso il latte della centrale un latte normalissimo parzialmente scremato eccoli qua i miei kefir ma se volete potete usare intero scremato come volete loro lavorano sempre con qualsiasi latte purché sia un latte con lattosio naturalmente non vegetale i granuli praticamente vivono mangiano il lattosio e praticamente sono dei batteri buoni che distruggono i batteri cattivi adesso se volete informazioni più dettagliate andate sul sito kefiritalia dove entrerete proprio in merito nella descrizione di questo di questo di questi importanti probiotici bene io ho rimesso tutto nel barattolino come vedete e vado questa volta faccio le cose per benino peso perché altrimenti una volta siamo diventati bravi si può fare anche ad occhio quindi la dose è da 1 a 5 massimo da 1 a 10 io sto usando da 1 a 10 quindi su 10 grammi di granuli metto 100 grammi di latte in questo caso sono 16 metterò 160 grammi di latte poi se anche ne mettete un po di più dopo 24 ore se non è pronto se non si è addensato aspettate più ore anche 48 eccolo qua questo è pronto posso rimettere il coperchio non stretto lo metto lento oppure mettete un telo e lo metto dentro la mia dispensa fino a domani e andiamo a vedere adesso il kefir di latte che ho lasciato a scolare nell'altro barattolo eccolo qua come vedete si sta già addensando ecco qua sta uscendo il siero il siero è un peccato anche buttarlo perché è ricchissimo di vitamine quindi un pochino anche se le sostanze rimangono poi nella crema però qualcosa va via se ne va con il siero come vedete qui se volete fare uno yogurt è già è pronto però io voglio farlo addensare un pochino di più quindi l'ho appoggiato qualche ora in frigo ora vado a controllare vediamo vedete questa certo questa è una dose minima vedete così è già tipo yogurt greco però voglio farlo ristringere ancora di più naturalmente quando i miei granuli cresceranno farò una produzione maggiore di crema bene ecco qua dopo qualche ora io direi che è pronto ora tolgo l'elastichino e guardate guardate quanto siero è uscito il siero è ricco di calcio di fosforo potassio vitamine questo andrebbe bevuto insieme alla parte grassa il kefir è un alimento vivo continua a fermentare anche senza grani quindi quello è un comunque un fermento che possiamo usare per altre cose ho letto che addirittura controlli anche i livelli dello zucchero nel sangue e aiuta anche a controllare il peso comunque se andate sul sito di kefir italia trovate scritto tutto adesso vi faccio vedere questa è la mia cremina come vedete pulisco bene non è proprio densa e volendo si poteva anche farla addensare di più quindi qui ho separato la parte grassa del kefir che comunque è piena di elementi salutari però ecco l'ideale è bere il kefir appena passato senza separarlo dal siero con questa cremina però si può spalmare tranquilli ci si può fare una merendina che dite ci si può fare anche dei dolci con le fragole tantissime cose ci sono tantissime ricette anche sul sito di kefir italia ora assaggio questa era una fetta di vaffa con il farina integrale e segale ecco la mia cremina io vi ringrazio della visione e in descrizione vi metto tutti i benefici riassumendo un pochino i benefici del kefir di latte ciao a tutti ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti